l'artista esistenzialista buonasera a tutti i dubbi di Iervolino parte di dubbi sono stati fugati diciamo con la valutazione che ha riguardato simo scusate Pippo Inzaghi quando Iervolino ha scelto di voler chiamare Inzaghi diciamo come post Paolo Sosa inzaghi sono state date tre partite per dimostrare ma è talmente complicato su due piedi non so quale sarà la valutazione della serenità in a breve giro di post c'è anche il problema del dirigente perché poi Iervolino ecco perché di dubbi di Iervolino vorrebbe un pochettino creare un restyling diciamo 360 gradi se parliamo di tre partite a disposizione di Pippo Inzaghi ce ne sta una forse una settimana a disposizione chi dice tre chi sette chi massimo dieci giorni cambia poco nel giro di un posto di uno slot di una settimana ci saranno le valutazioni opportune per quanto riguarda De Santi io so che già c'è stato un incontro De Santi si ha parlato con Iervolino si va avanti ancora per un po' e poi verranno fatte le valutazioni più opportune per un dirigente secondo me è diverso nel senso che voi sapete che a De Santi si può dire che è poco preparato ha poche conoscenze non riesce a prendere parametri zero se agli agganci è un conto se conoscenze è un conto però potremmo anche dire una parte del piatto la bilancia altro piatto che magari il presidente non ti ha dato la somma dell'anno prima perché ha dovuto diciamo riscattare un tot di giocatori bla 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 quindi sai la verità sta sempre in mezzo a tutte e due ok non entrando nel medio delle competenze che possono riguardare De Santi ci sono due opzioni una è che stanno trattando non come avevano detto un nome grande che potesse essere massaro e quant'altro complicato secondo me non perché diciamo la sana non può trattare massaro chi per esso sia ma perché magari un nome un po' più grande uno che giustamente è preparato lavoro nel buio eccetera eccetera nell'ombra e un giovane quant'altro ma i costi magari salivano io penso che Iervolino facciamo un discorso di sostenibilità entrati in quell'ottica di pensiero e fa bene tra le altre cose ebbene il contratto di Morgan De Santis è 1,2 all'anno forse un trenale mi sembra Fagiano piglia 700 mila euro che succede Fagiano parliamo di potrebbe arrivare tranquillamente un milione di euro a Salerno se dovesse essere chiamato dico sì perché tanti dicono che verrà Fagiano io un piccolo dubbio sapete perché c'è forse anche la possibilità che arrivi Fagiano ma c'è una notizia di cui pochi hanno parlato io ho avuto le mie conferme e la chiacchierata che molti hanno banalizzato allo stadio a Rechi in occasione della vittoria del Napoli a Salerno fra il padrone dell'Aurendis e Iervolino ripeto che tanti hanno banalizzato non è così banale perché a parte poi Iervolino ho sempre detto ha comunque dei non dico così preferenziali ma un certo tipo di rapporto con che ne so i vari dell'Aurendis e Scairo in parte anche lo dito e quant'altro e per idee per rapporti per non dico amicizia ma comunque ideologie e quant'altro quindi strutturati nel tempo non i primi anni ma già va meglio diciamo quello che è lo Iervolino pensiero in certi ambiti ebbene la chiacchierata ha portato a qualcosa di ben più preciso probabilmente anche un po' per salvare qualcuno del sedere di De Santis mettiamoci anche questo ebbene dell'Aurendis avrebbe proposto di prendersi D.A. 18-20 milioni di euro fate voi cambia poco in prestito e dare in prestito Simeone. Simeone verrebbe a giocare a Salerno perché Simeone sta bene a Napoli però Simeone vuole giocare e D.A. non si certamente opporrebbe un po' entrambi attenzione anche all'arrivo in una diciamo squadra società che punta un po' all'altra parte della classifica un po' più alta quindi due giocatori tra i 18 e i 20 milioni di euro a costo di cartellino per non bruciare questi benedetti cartellini e quindi a fine anno magari si conclude con lo scambio a titolo definitivo. Si è parlato anche tra le altre cose per allargare il cerchio di un terzino se partisse Zanoli si è parlato magari anche di Mazzocchi insomma un po' di cosine però lì ci siamo un po' fermati ma fondamentalmente ripeto quello che potrebbe essere una situazione un rapporto che già c'è attenzione potrebbe magari aiutare il signor De Santis fondamentalmente un acquisto che potrebbe essere se non è parametro zero perché non è parametro zero ma è un prestito potrebbe un pochettino tranquillizzare tra virgolette la piazza perché lui ti presenti comunque a Salerno con Simeone non è uno qualunque ed è guarda caso uno che può fare anche la seconda ma secondo me una prima punta ha un certo tipo di fisico una certa prestanza e quindi farebbe un totti goal con tutti i rispetto per D.A. che poi è una seconda punta ora sai tante situazioni un pochettino tanti aluni poco piacevole attorno a D.A. il contratto le problematiche la mancanza di volontà si gioca ma un po' più svegliati i giocatori quando non hanno voglia signori è bene che se ne vadano quindi c'è un po' sta notizia di cui ripeto autoconferma che potrebbe anche aiutare tra tutte virgolette anche De Santis a avere un pochettino più di diciamo c'è un po' un post un po' più saldo tra virgolette perlomeno a breve giro di post se poi giustamente tante cose non si svilupperanno e avrò fatto le mie valutazioni errate perché non posso sapere tutto giustamente io sono notizie che ho per conto di terzi ci metto alla faccia ma non è detto che tutto quello che dico io sia Vangelo perché non sono Gesù di Nazareth cerchiamo di magari avere delle notizie prima degli altri però non sempre è facile quindi fondamentalmente vi ripeto la notizia che potrebbe in parte aiutare De Santis avere un sedere un po' più saldo qui a Salerno potrebbe essere questa qui che è quella di lo scambio ripeto a breve giro di posto a gennaio Simeone a Salerno e DIA a Napoli si potrebbe anche allargare ad altri nomi come vi ho detto ma l'idea soprattutto nel fondamento dello specifico è questa per quanto riguarda gli allenatori invece già con Fagiano si è ridetto che sicuramente sostenibilità e quant'altro si parlerebbe comunque di allenatori giovani e quant'altro buon rapporto con Daversa ma Daversa se non sbaglio è a Lecce con qualche altro nome che adesso non mi sovviene ma tanti giovani ma tra l'altro attenzione c'è anche un buon rapporto con Nicola non so dove è stato Nicola nel periodo in cui è stato anche Daversa scusatemi Fagiano e quindi ripeto anche il ritorno di Nicola potrebbe essere un'opzione visto che ancora a libro pago la serenità a meno che poi non succede che da un momento all'altro non voglio pensare a salti Iuric e quindi poi Nicola potrebbe andare al torino stracciando il contratto ma sono tutte chiacchiere che poi non necessariamente possono avere un fondamento perché sono situazioni che cambiano da un momento all'altro però ripeto già si raffredda non l'ho mai considerata la pista che ha riguardato Massar e tanti altri nomi Petrachi ho detto non sarebbe mai venuto perché il genere Petrachi si sposta con Conte tendenzialmente un po' di altri nomi si è fatto anche i nomi Cangini, Foggia è già un nome più di secondo piano ripeto c'è un pochettino più strutturato Fagiano ma c'è forse quella situazione che potrebbe aiutare Morgan De Santis laddove è stato poco aiutato Paolo Sosa potrebbe avere un aiutino De Santis dal suo beneamato Napoli e beneamato Presidenza comunque lo scambio che potrebbe comunque tranquillizzare la piazza vediamo cosa accade l'artista esistenzialista buona serata a tutti